Ecco qua un gigante della comicità Roberto della Casa, protagonista insieme a Paolo Trestino, Nicola Pistoia e Simone Colombari nella scena dei cretini, giusto? Sì, giustissimo, sono una new entry, mi hanno ingaggiato da attori e tecnici del Teatro Vittoria, mi hanno fatto questa proposta, io sono felicissimo. Con grandi professionisti? Sì, sono strepitosi, ho avuto modo di fare alcune repliche un po' di tempo fa, strepitoso, il pubblico impazzisce, sono bravissimi. Adesso è un spettacolo che funziona perfettamente. Mamma mia, c'ha un meccanismo, c'ha un meccanismo che è oliato perché adesso loro hanno un ritmo frenetico che non ti dà modo di pensare e la gente si lascia andare. Dove tu sei un uomo delle tasse, diciamo delle finanze. Sì, che insomma entra subito con fare sospetto perché vede delle situazioni che non sono tanto legali, però poi alla fine c'è la sorpresa. No, meglio non dire. No, non svegliamo, non svegliamo. La sorpresa e va bene. Però il divertimento è assicurato perché io l'ho visto, per la Monarcha è stato veramente strepitoso. Ah, hai visto, la gente rideva ed era veramente un piacere. Poi è un piacere quando vedi la gente che ci sta, che ti dà soddisfazione. Poi è una comicità intelligente dove comunque gli uomini escono malissimo, vero? Vabbè, insomma dai, se non prendiamo questo momento così sulla scena, insomma così, sono contento proprio veramente di aver fatto questo salto, diciamo, da quest'altra parte. Allora, Roberto della Casa con Simone Colombari, Nicola Pistoia, Paolo Triestino e Loredana Piedimonte in la scena dei cretini al Teatro Ghione dal 30 dicembre, 6 gennaio. E portate lo sfumante. Sì, è importante, è con la fine dell'anno e l'inizio del nuovo anno, perché chi è felice il primo dell'anno, come si dice, è felice tutto l'anno. Anche i cretini. Anche i cretini, giusto. Roberto, grazie mille, in bocca al lupo. Grazie, grazie. Ciao.